Eh dai, era una settimana Stavo sapendo cazzo di stato ieri sera? Eh? Era il complanno mio tuo e sei pure una serata speciale Cosa? C'ho avuto problemi, scusa Problemi? Problemi erano un po' nel chiamato e non rispondi al messaggio Che cazzo te stai inventando? Stavo con te le persone! Cazzo, mi sono venuti a cercare Non te posso dir de più, va bene? Non me puoi dir de più! No! Sparisci mi, lasci da sola a fare la figura della deficiente davanti a tutti e non me puoi dir de più! Già i cazzi miei, non ti mettere a fare la scenata davanti a tutti! Non ti preoccupami, metto a fare nessuna scenata Anzi, facciamo che finisse qua! Finisce qua cosa? Mettiamo un punto! Un punto a cosa, chicca? Che sai dire? Un punto a noi due, basta! Mi sono rotta il cazzo delle chiacchiere, le bugie, le strozzate che dici! Lo capisci che quello che ti sto dicendo è vero o no? Ho capito! E ho capito pure che tu sognuno dei pei cazzi suoi, ok? Vaffanculo, mamma! Voi che cazzo c'avete da guardare? Andate a fanculo in classe, dai! Dai! Fate i pei cazzi vostri una volta, no? Non è per lei prof, scusi! Figurati! Non sei te che ti sei rotto il cazzo! Sono io! Hai capito? Dall'inizio sai perché? Perché non me ne hai mai fregato un cazzo di te! Mai!